Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme questa buonissima crostata Dukan con la crema pasticcera è una crostata che potete dividere per 4 giorni, buonissima, meravigliosa vi ho messo tempo fa una foto su Instagram, l'avete vista e molti mi avete chiesto la videoricetta, quindi seguite il video per vedere come prepararla questa ricetta ci servono 8 cucchiai di crusca di avena, 2 cucchiai di mezzana 150 g di ricotta al 6% di grassi, mezza bustina di lievito, un uovo, dolcificante a piacere e aroma a piacere, io ho scelto l'aroma arancia e poi per farcire la nostra crostata ci servirà anche della crema pasticcera è uscita appena adesso dal frigo ed è ancora con la pellicola di sopra l'ho preparata ieri, quindi il giorno prima ma voi se non avete tempo la potete preparare in quell'oretta, mezz'ora, un'oretta circa nel frattempo che l'impasto sta in posa nel frigo per preparare la crema pasticcera vi lascio qui in sovraimpressione il link con la videoricetta in una terrina rompiamo l'uovo aggiungiamo il dolcificante a piacere e l'aroma arancia montiamo con le fruste aggiungiamo i 150 grammi di ricotta e montiamo di nuovo aggiungiamo gli 8 cucchiai di grusca di avena 2 cucchiai di maizana la mezza bustina di lievito e adesso mescoliamo tutto insieme il composto deve venire molto solido e si dovrebbe formare una palla siccome ancora il mio impasto è invece liquido rispetto a come dovrebbe venire vado ad aggiungere dei cucchiai di crusca di grano così le inseriamo direttamente nella ricetta ne vado ad inserire uno alla volta fino a consistenza raggiunta comunque non ne dobbiamo mettere più di 4 cucchiai perché se no superiamo poi le dosi ok arrivato a questa consistenza più solida lasciamo riposare per un'ora circa in frigo passato un'ora e questo è il nostro impasto appena uscito dal frigo come vedete la consistenza è solidissima prendo un tagliare e sopra gli appoggio la carta forno la vado a ripiegare sul tagliere così sta ferma e non si sposta e adesso su questo piano vado a prendere un po' del mio impasto ci faccio una palla e lo vado a stendere mi aiuto con le mani bagnate così non afficcica arrivati a questo punto ho preferito mettere la carta forno con la nostra crostata già sulla teglia per poi andare a infornarla così non c'è rischio poi che mentre alzate il foglio di carta forno si rovina la crostata prendiamo adesso la nostra crema deve essere mi raccomando bella fredda io l'ho appena uscita dal frigo e la andiamo a mettere sopra e adesso la cospargiamo per bene adesso con il restante impasto con le mani sempre leggermente umide andiamo a formare delle striscioline per andare a mettere sopra per fare la griglia della nostra crostata ok e questa è la nostra crostata finita di assemblare cuociamo in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti e questa finalmente è la nostra crostata uscita dal forno appena sfornata se la provate fatemelo sapere giù con un commento e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video inoltre mettete un like, un pollice in su se volete far crescere me e il mio canale e soprattutto se questo video vi è piaciuto ci vediamo alla prossima ciao